Mi baso sul piano tecnico. Quella nave era una nave militare, ma non era della Corea del Nord, era italiana. Dentro quella nave non c'erano i kamikaze islamici, ma erano disperati, morsi di fame. Quindi l'idea che bisognava difendere il paese non ci sta. Però una decisione del genere lo prende il giudice del Parlamento e il popolo. Punto. Stabilito questo, nel momento in cui l'autorità giudiziaria ritiene che il reato c'è, ma sulla sua perseguibilità deve decidere il Parlamento, il Parlamento deve rendersi conto che non può averlo fatto solo Salvini, una cosa del genere, per un motivo molto semplice. Perché esiste una norma, secondo Com dell'articolo 40 del Codice Penale, che dice che chi ha l'obbligo di impedire un reato e non lo impedisce, ne risponde come se lo commettesse. Detto questo, il Presidente del Consiglio e i Ministri sono pubblici ufficiali H24. Sapevano benissimo quel che stava facendo Salvini, facendo finta di non sapere, si comportano come Ponzio Pilato che si girano all'altra parte. Ecco perché io ritengo che sarà un problema adesso, che andremo a processo, perché cosa succede? Che il Parlamento ha dato l'autorizzazione questa volta, a differenza dell'altra volta, a questo punto il Tribunale di Ministri rimanda gli atti al Tribunale competente, il quale dovrà procedere. La prima cosa che deve fare in sede dibattimentale è acquisire la prova. La prova si acquisisce per esame testimoniale. Il primo persone che devono sentire il Presidente del Consiglio domanda, lo senti come testimone o indagato il reato connesso? E allora tu, Parlamento, devi renderti conto che in questo momento hai deciso da solo di coinvolgere in questa inchiesta tutto il Governo, ma il Governo lo decide il popolo, non lo decide il... E quindi non lo decide il giudice.